E corsa alle prime dosi in Abruzzo, oltre 5.000 quelle somministrate nell'ultima settimana, si tratta del 47% in più negli ultimi sette giorni, più 108% rispetto a due settimane fa, perché chi non si vaccina non può scaricare il Super Green Pass e chi non ha Super Green Pass non può più accedere a bar e ristoranti al chiuso, a teatri e cinema, a stadi e discoteche. Le persone sono rette e corrette, quindi chi era un pochino che non aveva la possibilità è rimasto fuori, ma sostanzialmente non è cambiato nulla. Proprio in questo momento, in questo ristorante, voi state controllando il Super Green Pass perché altrimenti non si può accedere qui. Com'è cambiato il lavoro? Esattamente, non molto rispetto al passato, c'è solo questa incombenza in più. Teme che questo possa avere una ripercussione sul fatturato? Uno ieri è andato via perché non ce l'aveva, qualcun altro c'aveva il Green Pass, quello semplice col tampone, non l'abbiamo fatto mangiare. Naturalmente un po' di calo ci sarà. L'esito negativo del tampone è sufficiente per recarsi al lavoro, ma non più per accedere ai luoghi della cultura e del divertimento. Da ieri è necessario il Super Green Pass anche in zona bianca. In Abruzzo i non vaccinati, neppure con una dose, comprendendo però anche coloro che ne sono esenti, sono 165.000. Ho la terza dose, di già, poi mi hanno rifatto un'altra volta l'antinfluenzale, quindi sono già super protetta, credo. Comunque penso che ci vuole. Quindi le può accedere a tutti i luoghi? Comunque sì, se mi serve sì. Per noi è il secondo giorno, il primo anzi, perché siamo stati chiusi, controllo il Green Pass con l'app, sì sì. Così siamo più sicuri, più tranquilli e possiamo andare dove vogliamo. Ieri prima giornata di quest'ennesima stretta sui Novax e quindi anche prima giornata di controlli. A Pescara, fanno sapere dalla prefettura, nessuna criticità. 433 le persone controllate, 58 gli esercizi commerciali, mentre le sanzioni sono state solo 5. Non voglio prendere la multa né per me né per loro, quindi cerchiamo di essere corretti. E se la produzione non può ricevere altri colpi, impedendo ai lavoratori non vaccinati di svolgere il proprio mestiere, si è scelto di limitare l'accesso nelle attività che riguardano la vita sociale, forse ritenuta di secondaria importanza. L'obiettivo è manifesto, rallentare l'avanzata del virus così da scongiurare ulteriori restrizioni e salvare i consumi del Natale. Per Natale così siamo più liberi. Ci salviamo un po' di più, certo, è più una sicurezza.